In questo video andremo a presentare CLEF 2.0, la seconda versione della web application CLEF, crowdsourcing linked entities via webforms, sviluppata dal Centro di Ricerche di Digital Humanities dell'Università di Bologna. Si tratta di una web application di cui scopo è quello di supportare progetti di dimensioni medio-piccole nella catalogazione collaborativa di linked open data tramite uno strumento di facile utilizzo e piuttosto familiare per gli utenti del web come quello del webform. CLEF prevede una distinzione tra due classi di utenti, membri accreditati e semplici utenti. Ai primi spetta possibilità di accedere all'area membri dove è possibile visualizzare tutti i record, tutte le schede catalografiche presenti nel catalogo in costruzione, modificarne il contenuto, pubblicarle oppure cancellare direttamente al record. I record vengono costruiti dagli utenti utilizzando dei template che possono essere costruiti esclusivamente dai membri accreditati di un progetto CLEF. Dall'area membri sarà dunque possibile creare un nuovo template specificandone un nome e una classe aula. Una volta creato un nuovo template sarà necessario andarne a definire i campi di input che andranno a costituire il webform utilizzato dall'utente finale per popolare il catalogo in costruzione con una serie di nuovi record. CLEF mette a disposizione nuove tipologie di campi di input. Abbiamo Textbox per valori testuali, Textarea per valori testuali più lunghi, Dropdown, Checkbox, valori di datazioni, file multimediali, nomenclature standardizzate e vocabolari SCOS, anteprime di pagine web esterne e una funzionalità di Knowledge Extraction. Ciascun campo di input è caratterizzato da una serie di elementi che andranno a fare un'altra definita dal creatore di un template. Nel caso di una Textbox è necessario fornire un nome con cui identificare il campo di input, una descrizione che sarà poi necessaria, sarà poi utile per l'utente finale per andare a compilare correttamente il campo di input, una proprietà RDF per la quale è previsto un sistema di suggerimento automatico per la selezione appunto della proprietà più appropriata. Nel caso delle Textbox è poi necessario specificare un value type, che può essere free text, dunque literal, delle entità da Wikidata, VIAF o dal catalogo, una località o uno URL. In questo caso scegliamo free text e comparirà una spunta attivabile per fare di questo campo di input la primary key del template. È poi possibile fornire anche un placeholder e dunque un valore di esempio. Ciascun campo di input è riutilizzabile più volte, fatta eccezione per la funzionalità di Knowledge Extraction e ciascun campo di input andrà definito con parametri diversi. Una volta creato un template, questo sarà disponibile per l'utente finale che andrà ad aggiungere una nuova risorsa al catalogo in costruzione. Selezionando ad esempio Example Template sarà possibile vedere un template di esempio dove sono presenti tutti i possibili campi di input utilizzabili in Class 2.0. Oltre a dei campi di input che accolgono semplici valori testuali, come nel caso questo campo Title, che accoglie è appunto una semplice stringa, abbiamo dei drop down dai quali è possibile selezionare un valore tra una serie di valori predefiniti, delle checkbox per selezionare uno o più valori tra quelli disponibili, dei campi di input di tipo textbox il cui value type è uguale a URI e dunque questi campi di input consentono agli utenti di recuperare e riutilizzare entità presenti in VIAF, Wikidata e nel catalogo stesso attraverso un sistema di suggerimento automatico. In particolare CLEF prevede la possibilità di ricevere suggerimenti da Wikidata e dal catalogo in costruzione e qualora non siano presenti riscontri in nessuno dei due servizi verranno offerti suggerimenti automatici da VIAF. Vediamo ad esempio come Leonardo da Vinci sia presente in Wikidata, abbiamo poi il sabato del villaggio che è invece un record presente all'interno del catalogo, mentre digitando stringhe che non trovano riscontri né in Wikidata né nel catalogo sarà possibile selezionare uno degli scontri forniti invece da VIAF. Abbiamo qui un altro campo di input di tipo textbox che accoglie in questo caso URI di location, quindi di località, tratte da geonames e sarà sufficiente digitare anche in questo caso una stringa di input per ricevere dei suggerimenti tematici. Abbiamo poi il campo di datazione dove sarà sufficiente cliccare sull'icona del calendario per aprire il widget e selezionare la data più adatta. Abbiamo poi il campo dedicato ai file multimediali, dunque basterà copiare, incollare il link, premere invio e cliccando sull'icona a fianco sarà possibile visualizzare il file scelto. I campi invece di tipo vocabulary prevedono la possibilità di ricevere suggerimenti automatici e dunque di recuperare e riutilizzare termini da nomenclature standardizzate, ad esempio in questo caso si è scelto di utilizzare la nomenclatura Tadira, la tassonomia di Tadira. Attraverso il link la shortcut è possibile accedere al vocabolario per intero e selezionare e ricercare il termine più adatto, ad esempio in questo caso scegliamo annotating e sarà sufficiente digitare qualche carattere per ricevere dei suggerimenti automatici e andare così a completare il campo di input. Un altro campo di input consente invece di inserire delle preview delle anteprime di pagine web esterne, anche in questo caso sarà sufficiente copiare un link, incollarlo e premere invio. Infine la funzionalità più importante introdotta da Cloud 2.0 coincide con un meccanismo di knowledge extraction che consente di recuperare delle entità chiave, ovvero delle coppie di URI e label, che andranno a definire delle keywords con cui arricchire la descrizione del record in costruzione. Sarà sufficiente cliccare sul bottone apposito e si aprirà un form, da cui l'utente potrà innanzitutto selezionare il tipo di estrattore, tra tre opzioni, servizi API, Sparkle Endpoint e file statici di formato JSON o CSV. A seconda dell'estrattore selezionato verrà visualizzato un forum diverso che richiederà all'utente dei parametri diversi. Ad esempio in questo caso viene richiesto all'utente di fornire un punto di accesso, lo URL di accesso al servizio CPI. Sarà dunque necessario fornire dei parametri di query e poi necessario fornire delle chiavi di accesso per accedere all'array di risultati restituiti dall'API e anche delle chiavi di accesso per isolare lo URI e la label di ciascuna entità chiave. Nel caso di Tadira sarà sufficiente specificare results. All'interno di questo array ciascun item avrà uno URI e una label accessibili attraverso le chiavi URI e Preflabel. A questo punto una volta inseriti i parametri richiesti sarà sufficiente cliccare su Next, verrà eseguita un'estrazione, si potranno osservare i risultati ottenuti e cliccando su Import otterremo una serie di risultati che sono appunto quelli che abbiamo visualizzati in precedenza. Nel caso in cui alcuni risultati non siano necessari sarà sufficiente cliccare sul tag del risultato e potranno essere rimossi. Ovviamente Clef prevede la possibilità di combinare più tipi di estrazioni nello stesso record, nella definizione dello stesso record. Sarà sufficiente cliccare nuovamente sul bottone per le estrazioni dell'entità, selezionare lo stesso o un altro tipo di estrattore e compilare l'apposito forma. Quando un nuovo record viene salvato all'interno del catalogo in costruzione questo sarà accessibile nell'area membri del progetto. Qui i membri potranno scegliere se cancellare, modificare o revisionare e pubblicare il record. Nel caso in cui i dati forniti dall'utente siano corretti sarà possibile procedere alla pubblicazione del record che a questo punto sarà disponibile per tutti utenti e non all'interno della sezione explore del progetto. In particolare accedendo alla sezione che prende il nome dal template di riferimento, sarà possibile vedere tutti i record che appartengono a quel template e sarà dunque possibile accedere anche all'item, al record realizzato, costruito dagli utenti. Dunque in questo caso è il sabato del villaggio. Cliccando sul link si accede alla scheda catalografica dove appunto abbiamo un titolo, l'autore, che in questo caso contiene un riferimento a un'entità di Wikidata, Giacomo Leopardi, la data, una riproduzione fotografica e un rimando tramite iFrame al testo presente in Wigisorts.